Varia da città a città lo sciopero, ma in tutte viene garantito in alcune fasce orarie il trasporto pubblico locale. Al momento risultano in servizio tutte le linee metro a Milano, fa sapere la TM. Regolare anche il servizio della metropolitana Roma, sostiene l'Atac. Per bus e tram invece sono possibili riduzioni di corse. L'odierno stop nazionale di 24 ore era previsto il 29 settembre, ma allora il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, aveva precettato gli autoferrotranvieri. A indire la mobilitazione generale e l'unione sindacale di base per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, il salario minimo per legge a 10 euro e contro appalti e subappalti ad aziende private del servizio. Domani invece a fermarsi, con il rischio di paralizzare il traffico nelle città, saranno i taxisti aderenti al sindacato di base contro il decreto legge approvato la scorsa settimana che prevede la possibilità per i comuni di ampliare le licenze taxi fino al 20%.